Con oggi si conclude la tre giorni della Global Finance Conference qui a Treviso, una tre giorni che ha visto economisti di tutto il mondo confrontarsi con ricerche ed approfondimenti di estremo interesse sulle tematiche più stringenti, inflazione, tassi di interesse, mercati mondiali, ma anche inevitabili interconnessioni di geopolitica che sono affiorate anche ieri sera durante la serata di gala che si è tenuta alla chiesa di Santa Caterina e dove era presente anche la console del Principato di Monaco a Venezia, Anna Alicia Balzan, e i sindaci Conte e Cesa dei comuni di Treviso e Borgo Valbelluna, che hanno patrocinato l'evento. Qui hanno conversato anche con il pubblico il premio Nobel Paul Krugman, i professori Gianni De Nicolò della John Hopkins University e Samuel Vigne della LUIS, Francesco Vigoriti della FID e Luca Ramponi della BCC. Di queste tre giorni si può evidenziare anche la folta presenza di giovani studiosi di università da tutto il mondo che hanno portato energia e desiderio di futuro. È un'esperienza fantastica per me essere qua rappresentando l'università, gli studenti, essere qua con i miei professori, vederli presentare i loro paper e conoscere anche persone da tutto il mondo, noi professori di diverse università mondiali. Sicuramente è un'ottima opportunità per fare networking, per conoscere nuove persone e di conseguenza ampliare il nostro background culturale quando si viene conoscendo nuove culture, nuovi modi diversi di studiare e di lavorare. Sto facendo uno stage al Teofilo Intato Institute, quindi il mio lavoro si divide a metà tra ricerca nell'industria finanziaria, sul rapporto prezzo-utili, la price-earning ratio, molto conosciuta, e per l'altra metà sull'organizzazione dell'evento. È stata una grande opportunità poiché sono stato coinvolto nel mondo economico ai suoi massimi livelli e la conferenza mi ha familiarizzato con molti ricercatori che lavorano sui temi più attuali. Una trentesima edizione, organizzata dal Teofilo Intato Institute, guidato dal professor Guido Mantovani e dalle università Cafoscari di Venezia e International University of Monaco, da incorniciare per una storia importante, quella della Global Finance Conference. In questi trent'anni la conferenza si è tenuta in tutto il mondo. Questa è la prima volta che veniamo in Italia, anche se mi sarebbe piaciuto che si fosse tenuta prima qui. Ma questa è stata un'opportunità d'oro con i miei amici e professori. Ogni anno la conferenza ottiene circa 300-400 richieste e indicativamente sono 200 coloro che vengono selezionati e più di 700 organizzazioni hanno sponsorizzato la nostra conferenza sino ad ora. Da Treviso, per la giornata conclusiva della Global Finance Conference, Lavinia Cavalett.